Il piccolo principe si trovava nella regione degli asteroidi 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Cominciò a visitarli per cercare un'occupazione e per istruirsi. Il primo asteroide era abitato da un re. Il re, vestito di porpora e dermellino, sedeva su un trono molto semplice e nello stesso tempo maestoso. «Oh, ecco un suddito!» esclamò il re appena vide il piccolo principe. E il piccolo principe si domandò «Come può riconoscermi se non mi ha mai visto?» Non sapeva che per il re il mondo è molto semplificato. Tutti gli uomini sono dei sudditi. «Avvicinati che ti veda meglio!» gli disse il re che era molto fiero di essere finalmente re per qualcuno. Il piccolo principe cercò con gli occhi dove potersi sedere ma il pianeta era tutto occupato dal magnifico manto di ermellino. Dovette rimanere in piedi ma era tanto stanco che sbadigliò. «E' contro all'etichetta sbadigliare alla presenza di un re!» gli disse il monarca. «Te lo proibisco!» «E non posso farne a meno!» rispose tutto confuso il piccolo principe. «Ho fatto un lungo viaggio e non ho dormito!» «Allora?» gli disse il re. «Ti ordino di sbadigliare! Sono anni che non vedo qualcuno che sbadiglia e gli sbadigli sono una curiosità per me! avanti! Sbadigli ancora! È un ordine!» «Mi avete intimidito! Non posso più!» disse il piccolo principe arrossendo. «Hmmm! HMM!» rispose il re. «Allora io... io ti ordino di sbadigliare un po' e un po'!» borbottò qualche cosa e sembrò seccato perché il re teneva assolutamente a che la sua autorità fosse rispettata, non tollerava la disubbidienza. Era un monarca assoluto ma siccome era molto buono dava degli ordini ragionevoli se ordinassi diceva abitualmente se ordinassi a un generale di trasformarsi in un uccello marino e se il generale non ubbidisse non sarebbe colpa del generale sarebbe colpa mia posso sedermi si informò timidamente il piccolo principe ti ordino di sederti gli rispose il re che ritirò maestrosamente una falda del suo mantello di ermellino il piccolo principe era molto stupito il pianeta era piccolissimo e allora su che cosa il re poteva regnare si re gli disse scusatemi se vi interrogo ti ordino di interrogarmi si affrettò a rispondere il re si re su che cosa regnate su tutto rispose il re con grande semplicità su tutto il re con un gesto discreto indicò il suo pianeta gli altri pianeti e le stelle su tutto questo domandò il piccolo principe su tutto questo rispose il re perché non era solamente un monarca assoluto ma un monarca universale e le stelle vi ubbidiscono certamente gli disse il re mi ubbidiscono immediatamente non tollerò l'indisciplina un tale potere meravigliò il piccolo principe se l'avessi avuto lui avrebbe potuto assistere non a 43 ma a 72 o anche a 100 a 200 tramonti nella stessa giornata senza dover mai spostare la sua sedia e sentendosi un po triste al pensiero del suo piccolo pianeta abbandonato si azzardò a sollecitare una grazia dal re vorrei tanto vedere un tramonto fatemi questo piacere ordinate al sole di tramontare se ordinassi a un generale di volare da un fiore all'altro come una farfalla o di scrivere una tragedia o di trasformarsi in un uccello marino e se il generale non eseguisse l'ordine ricevuto chi avrebbe torto lui o io l'avreste voi disse con fermezza il piccolo principe esatto bisogna esigere da ciascuno quello che ciascuno può dare continuò il re l'autorità riposa prima di tutto sulla ragione se tu ordini al tuo popolo di andare a gettarsi in mare farà la rivoluzione ho il diritto di esigere l'obbedienza perché i miei ordini sono ragionevoli e allora è il mio tramonto ricordò il piccolo principe che non si dimenticava mai di una domanda una volta che l'aveva fatta l'avrà il tuo tramonto lo esigerò ma nella mia sapienza di governo aspetterò che le condizioni siano favorevoli e quando saranno si informò il piccolo principe gli rispose il re che intanto consultava un grosso calendario sarà verso verso sarà questa sera verso le 7 e 40 e vedrai come sarà obbedito a puntino il piccolo principe sbadigliò rimpiangeva il suo tramonto mancato e poi incominciava ad annoiarsi non ho più niente da fare qui disse il re me ne vado non partire rispose il re che era tanto fiero di avere un suddito non partire ti farò ministro ministro di che di della giustizia ma se non c'è nessuno da giudicare non si sa mai gli disse il re non ho ancora fatto il giro del mio regno sono molto vecchio non c'è posto per una carrozza e mi stanco a camminare oh ma ho già visto io disse il piccolo principe sporgendosi per dare ancora un'occhiata sull'altra parte del pianeta neppure laggiù c'è qualcuno giudicherai te stesso gli rispose il re è la cosa più difficile è molto più difficile giudicare se stessi che gli altri se riesci a giudicarti bene è segno che sei veramente un saggio io disse il piccolo principe io posso giudicarmi ovunque non ho bisogno di abitare qui disse il re credo che da qualche parte del mio pianeta ci sia un vecchio topo lo sento durante la notte potrai giudicare questo vecchio topo lo condannerai a morte di tanto in tanto così la sua vita dipenderà dalla tua giustizia ma lo grazierai ogni volta per economizzarlo non ce n'è che uno non mi piace condannare a morte rispose il piccolo principe preferisco andarmene no disse il re ma il piccolo principe che aveva finiti i suoi preparativi di partenza non voleva dare un dolore al vecchio monarca se vostra maestà desidera essere obbedito puntualmente può darmi un ordine ragionevole potrebbe ordinarmi per esempio di partire prima che sia passato un minuto mi pare che le condizioni siano favorevoli e siccome il re non rispondeva il piccolo principe esitò un momento e poi con un sospiro se ne partì ti nomino mio ambasciatore si affrettò a gridargli appresso il re aveva un'aria di grande autorità sono ben strani i grandi si disse il piccolo principe durante il viaggio